buongiorno a tutti bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di mobilità come si calcola il punteggio dei titoli e del servizio sono titolare alla scuola primaria su posto comune e ho acquisito tramite tfa il titolo di specializzazione per i posti di sostegno questo titolo mi vale punteggio per la mobilità 24 25 e in che modo lo posso sfruttare il titolo di specializzazione sul sostegno non dà nessun punteggio per la mobilità ma essendo un titolo di accesso per i posti di sostegno consente al docente di ruolo su posto comune a poter richiedere il trasferimento oltre che sui posti comuni anche sui posti di sostegno questo aumenta la probabilità di ottenere il trasferimento nelle sedi espresse in domanda domanda numero due questo anno in corso il 2023 2024 è il quarto anno che sono titolare nella scuola x per la classe di concorso bbb della scuola secondaria di primo grado quanti punti mi toccano per la continuità del servizio per la mobilità territoriale per la mobilità professionale partiamo con il dire che l'anno in corso 2023 2024 per la mobilità 24 25 non può essere conteggiate che quindi va escluso e quindi restano solamente gli anni 20 21 21 22 22 23 che se prestati senza soluzione di continuità danno diritto per la mobilità territoriale professionale per la professione si intende passaggi di catena o di ruolo a sei punti ovvero due punti per ogni anno di continuità fino al quinquennio chiaramente questi punti si aggiungeranno ai sei punti i per anni per ogni anno scolastico di punteggio di servizio la continuità si aggiunge al punteggio di servizio terza e ultima domanda sono stato trasferito d'ufficio a partire dall 1 settembre 2016 nella scuola x dello stesso comune della scuola y di precedente titolarità per 8 anni ho fatto richiesta di rientro con precedenza nella scuola y dove insegnavo già da dieci anni senza mai ottenere il trasferimento richiesto sono rimasto titolare della scuola x cosa succede al mio ponteggio di continuità per la gradatoria interna 24 25 diciamo che esaurito l'ottegno di precedenza per rientro la scuola di precedente titolarità e con la mobilità 24 25 gli anni sarebbero 9 di rientro e per cui non ha più diciamo questa precedenza dunque esaurita questa precedenza resterà titolare nella scuola x cioè dove è stato trasferito d'ufficio con questi otto anni di continuità nella scuola x verranno dati di diritto 19 punti che aggiungerà ad altri dieci punti di continuità nel comune per il servizio prestato nella scuola di precedente titolarità ovvero la scuola y il punteggio totale la continuità sarà quindi 29 punti se non avesse avuto il trasferimento d'ufficio e dunque fosse rimasta sempre titolare la scuola y i punti sarebbero stati 49 dunque di fatto questa perdita del post e non essere rientrato nell'ottegno nella scuola di precedente titolarità ha fatto perdere circa 20 punti al docente ecco perché il rientro avrebbe invece sanato il problema e il punteggio sarebbe stato di 49 punti ecco questo sono le risposte alle domande che ci avete inviato continuate a inviarci domande sulla mobilità ma anche su altri argomenti perché ogni settimana noi daremo risposte alle vostre domande arrivederci alla prossima